Come di sport? Ma tu sei uno sportivo Antonello? Sì, certo sono tifoso. No, 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 dimmi la verità. No, no, certo, se ho giocato anche a pallone, poi purtroppo per un incidente alla gamba... Antonello De Piero, certamente. No, perché io mi chiedevo, ma perché dico ha fatto un inno sulla Roma? Perché tu hai scritto... Allora mi chiedevo, dico, ma sarà uno sportivo, una cosa, una... E invece è proprio così. Sì, è proprio così perché è la mia squadra del cuore... Che cosa faresti per la Roma? Dimmi. No, dimmi che cosa... Niente, per il momento ho scritto una canzone. Ecco, senti, ma questo pezzo lo suonano sempre negli stati, com'è la cosa? No, per il momento lo stadio non c'è, diciamo, perché l'inufficiale della Roma è grazie a Roma di venditi. E quello lo so. E il tuo? E il mio è il cuore giallorosso, ed appunto il titolo all'album, e niente, è la prima canzone del primo lato. Sì, ma dov'è che si può sentire questo pezzo? Allo stadio mai? In vendita nei negozi e anche per radio lo danno stesso. Guarda, c'è una sorpresa per Antonello. Allo stadio mai? C'è una sorpresa per Antonello. Questa canzone si può sentire anche qui. Si può sentire anche qui? Senti? Senti? Non sento. Ah. Senti? 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 Ma non possiamo fare qualcosa perché si canti allo stadio questa canzone? Ma lo diciamo qui in televisione, non so se i dirigenti dell'Olimpico volessero dare una mano alla Roma, almeno con una canzone. Insomma, un anno come questo sono anni che non li vediamo più. Poi oltretutto volevo dire un'altra cosa, Antonello De Pierro esce come vincitore della scorsa trasmissione, dello scorso anno, da questo fortunato, signore e signori, ecco a voi. C'è stato il vincitore Antonello De Pierro e l'ha portato fortuna. Infatti devo veramente tanto a questa trasmissione che ho vinto, non so, forse anche con un po' di fortuna perché un pizzico di fortuna ci vuole sempre, però devo essere sincero, da allora sono iniziate tante cose veramente positive. Ti abbiamo portato bene. Sì, e poi ci tengo a dire, sono felice di ritornare da quest'altra parte e sono veramente, anzi, emozionatissimo e soprattutto devo dire, ci tengo a precisare che come difficilmente succede veramente è un concorso pulito, questo lo posso dire io che ho vinto e è veramente un concorso pulito. Noi ti ringraziamo, ma questa era sottintesa, si vede proprio ad occhio, che è così. Allora, salutiamo Antonello De Pierro e sempre fatto. Il fatto di queste divise, diciamo, rossonere è stata una cosa che mi avete fatto a posto oppure è un caso? È un caso, è un caso, è un caso, non c'è, non c'è. Bene, grazie.